Musica Ennesimo incidente sul lavoro questa mattina in provincia di Cosenza, precisamente a fiume Freddo Bruzio, piccolo centro della costa tirrenica Cosentina. La vittima dell'incidente è Pino Cosenza, un operaio di 55 anni, originario di Luzzi, sempre nel Cosentino. L'uomo è stato colpito da una potentissima scarica elettrica che si è sprigionata dai fili dell'alta tensione e non gli ha lasciato scampo. Nell'incidente è rimasto ferito anche un collega dell'uomo, un 55enne, ora ricoverato in ospedale, in gravi condizioni. Da una prima ricostruzione dell'accaduto pare che gli operai stessero lavorando in un cantiere allestito in un terreno privato e si trovavano su un mezzo gru, quando, per causa in corso di accertamento, il braccio meccanico avrebbe toccato inavvertitamente i fili dell'alta tensione. La scarica da 20.000 volti, innescata dal contatto, ha sbalzato letteralmente a terra i due operai scagliati a diversi metri di distanza. Per Pino Cosenza la scarica si è purtroppo rivelata fatale. Per Pino Cosenza la scarica